Ciao a tutti ragazzi, oggi un nuovo video, faremo una lasagna con polpette. Allora, prendiamo una teglia e iniziamo a mettere dentro il nostro sugo. Dopodiché mettiamo dentro la nostra sfoglia per lasagne, andiamo ad aggiungere del prosciutto cotto, all'incirca due fettine, della mozzarella fior di latte, le nostre polpettine, queste qua sono polpettine di carne, andremo ad aggiungere anche del parmigiano e a sua volta andremo a coprire con altro sugo. E così andiamo a ripetere strato dopo strato. Per la domenica questo qua è un piatto perfetto, abbastanza semplice. Certo l'unica cosa per fare le polpettine così piccole ci vuole un po' di tempo anche per friggerle. Poi vi porto il video completo di come faccio le polpettine. Arrivate fino all'ultimo strato, quello che potete mettere nella vostra teglia con i vostri ingredienti. E dopodiché andate a chiudere con carta forno e stagnola. A questo punto infornate a forno preriscaldato a 200 gradi e lasciate cuocere per 40 minuti. Dopodiché scoperchiate la vostra lasagna e fateli fare 5 minuti di cottura con il grill. Se la volete un poco più bruciacchiata sopra. Provate tutti a farla a casa, replicate e lasciatemi più in commento. Fatemi sapere come vi è venuta. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e seguitemi. Ciao e al prossimo video!